Oggi ti suggerisco una ricetta semplice e molto appetitosa, la schiacciata di patate e cipolle. La puoi servire come antipasto o come stuzzichino per l'aperitivo. Lessa 700 g di patate intere e con la buccia. Schiacciale con uno schiacciapatate. E condiscile con sale, pepe e un cucchiaio di olio. Mescola bene. Poi aggiungi 40 g di farina 00 oppure di farina di riso senza glutine. Mescola brevemente. Trasferisci il tutto sul piano di lavoro. Impasta velocemente fino a formare un panetto omogeneo. Prendi una teglia rettangolare di circa 35 cm x 25 cm e rivestila con carta da forno. Stendi l'impasto con le mani cercando di formare uno strato omogeneo. Più è sottile, più sarà croccante. Prendi una cipolla, sbucciala e tagliala a fette sottili, ma non sottilissime. Separa gli anelli uno dall'altro con le mani. Distribuisci gli anelli di cipolla sulla superficie della schiacciata. Condisci con un pizzico di sale, un po' di origano e un po' di olio. Cuoci la schiacciata nel forno ventilato a 190 gradi per circa 40 minuti, finché non è bella dorata. Tagliala e servila subito. Trovi questa e altre ricette sul mio blog Il Chicco di Mais. Interessanta